Ho fatto questo video per dirvi che dopo quattro anni di economia totalmente traballante che nulla funzionava al catasfascio, ecco che l'economia a settembre 2012 riprenderà all'improvviso e si dirà pensate solo all'economia, pensate solo a quello e quindi tutto il resto non bisognerebbe pensarsi, non bisognerebbe portarlo avanti, se non che all'improvviso salta fuori che l'economia va bene, ecco, e però allora dove va male? Va male magari in Cina dove avevano fatto i mutui ed ecco che lì inizia a andare male. Allora, in una situazione del genere, ma nei quattro anni all'improvviso si va bene e però nei quattro anni è mancato tutto e quindi è giusto portare avanti quello che si è sempre portato, anzi doveroso perché ci sono altri argomenti da dover portare avanti e nulla può essere fermato. D'altra parte il mio sito è nominativo, Gennaro Gelmini, quindi chi entra saprà che ci sono i miei articoli. Tanti vedo che vogliono fare maestri, però io non sono il loro allievo, io sono una persona come loro, allora è inutile fare commenti altezzosi perché siamo alla pari. Ed ecco poi tutte le cose che ho sempre detto, ma ci credo al 100% e so che sono vere perché non è mai detto che tutto vi dicano, io mi sono dovuto mettere al posto di quelli che non parlavano e ho dovuto parlare io. Oggi è il 12 agosto 2012 e arrivederci a presto.